Quando uno arriva, parte il secondo. Quando uno arriva, parte il secondo. Quando uno arriva, parte il secondo. Mi ricordate che c'è un segreto. Una volta che io ho preso il posto, presto. Se no, mi inizio a studiare. Ecco, siete perfetti. Ciao, io mi chiamo Patricio. Mi è piaciuto tanto il lavoro a Scacchiera. Così, non proprio quello, però a mano così lenta. Lenta. C'erano dei movimenti che mi piacevano, tipo quello del vento che noi facevamo così, come dei fiori che mi muovevano. Hanno fatto quello, quello che saluti. Mi piace e prendo un po' un bagno per mano. Mi è piaciuto tanto il lavoro a coppie. Lavoro a coppie due. Giro, muro dorato, dopo ho diventato il muro. E mi è piaciuto tanto il lavoro a Scacchiera. C'erano dei fiori che mi sono sbagliato. C'erano dei fiori che mi è piaciuto quando avevo fatto il disegno di Percival. E chi è Percival? È un personaggio di una storia. Percival questo qua. Bene, questo gruppo qui è più la schiena, è più questo, è meno questo. Ok? Più questo. Ecco. E' più. Lì. E' più. E' più. E' là. Fino a lì. Ed è là. Dov'è? E' là. Andrea. Veramente Alessandro, va bene. E cosa avete fittuato questo maestro Andrea? Tipo di aver imparato a disegnare e usare il pennello benedetto e orizzontale ben verticale. Dov'è il pennello? Luca. Ciao! 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 ..! Grazie a tutti